e andiamo se salve a tutti sono alex il biondo benvenuti in un nuovo video ragazzi buonasera buonasera a tutti come state buon sabato sera come state spero tutto bene io ragazzi stasera sto alla grande è finita finalmente ragazzi ve lo giuro è stato un parto veramente oddio oddio veramente ho sudato verso la fine della partita è finita la partita appena si è appena conclusa benevento juventus 1 a 1 ragazzi prima di iniziare vi voglio dire che stasera saremo in live come tutte le sere a differenza trovate il canale in descrizione a differenza che saremo dalle 10 a magari mezzanotte e mezza pure luna ora saremo su fifa e dove apriamo dei pacchetti con le sfide del black friday quindi ragazzi ci divertiremo e faremo faremo il draft e quindi mi raccomando alle 10 saremo in live cosa dire ragazzi cosa dire parliamo un po' della partita applausi applausi a questa squadra al benevento che sono veramente orgoglioso di essere beneventano veramente abbiamo fatto una grandissima partita contro una big cioè la juve che ha molto più esperienza di noi ha una rosa che fa paura mancava un altro ok cioè non l'ha convocato non l'hanno convocato però comunque c'era dibala quadrato ragazzi mamma mia veramente una grandissima squadra alla juve una big però c'era cioè vi giuro io c'è già pensavo alla vittoria pensavo che vincevamo però veramente sono super contento per me ve l'ho detto per me è una vittoria perché siamo cresciuti noto un grande miglioramento dalle scorse partite per esempio contro lo spezia contro il verona noto delle grandi differenze abbiamo fatto meno errori ovviamente ragazzi possesso parla più della juve comunque la juve ha giocato di più ha fatto più ha creato più azione ha fatto più tiri in porta ma ragazzi è normale comunque ve l'ho detto non abbiamo giocato contro una squadra di serie d ma abbiamo giocato con una squadra che ha fatto champions cioè diciamo per ora è la squadra più forte d'italia possiamo dire così e sono veramente contento per me migliore in campo ragazzi oggi mi è piaciuto tantissimo come la scorsa volta montipò che ha fatto una grandissima parata mi sembra su dibala poi ragazzi mi è piaciuto letizia vabbè che ha segnato però lasciando stare il gol però comunque ho notato un miglioramento se in difesa diciamo perché prima sbagliava alcune cose ok magari ha fatto prendere diciamo il gol cioè poteva benissimo levarci la palla però abbiamo preso gol però non fa niente ragazzi io sono super contento di questa squadra cosa dire della juve vi ho detto ha creato più azioni ok ha avuto più gioco palla ma alla fine ci sta sono contento già l'ho detto 3000 volte scusate e nulla questo video può finire qua ragazzi fatemi sapere nei commenti se avete visto la partita se diciamo le vostre considerazioni e nulla noi ci becchiamo stasera su twitch mi raccomando canale in descrizione dalle 10 a vabbè vedremo comunque partiremo alle 10 noi ci becchiamo forse un prossimo video forza benevento ragazzi sempre forza benevento ciao ragazzi ciao